Salve carissimi amici tutubi e bentornati nella soffitta di camera mia. Continua la collaborazione col Paperpedia Wikia, una wiki interamente dedicata al mondo Disney, ai personaggi e agli autori che hanno reso grande questo mondo. Se volete approfondimenti, è il luogo giusto dove andare. Detto questo, continuiamo col video di oggi. Per chi mi conosce sa che non è la prima volta che faccio un video su un albo che non ho, quindi non mi permetto di giudicare l'albo, ma vi volevo parlare di, non Paper dinastia, ma la saga di Paperon dei Paperoni, uscita recentemente per Panini e Disney nella nuovissima collana Tesori International. Tesori International che, da quel che ho letto, da quel che ho sentito, da quel che ho letto fondamentalmente in rete, non è esente da alcuni difetti. Principalmente ci sono alcuni bachi, alcuni errori di tipografia, alcuni errori di battitura, ci sono degli spoiler interni a cose che succederanno in un altro volume, un po' di cose così. La colorazione è stata rivista in collaborazione con Don Rosa, quindi sicuramente qualcosa di fatto veramente ad hoc. Detto questo, vi rimando per ulteriori approfondimenti al video di K4Kaos, youtuber che è molto molto più ferrato di me, quindi sicuramente ha fatto un video di recente in cui parlava anche e soprattutto dei difetti della nuova versione. Quello che vi posso dire è come è strutturata questa saga, scritta da Don Rosa, ovviamente non è un prete, ma un autore americano, che ha amato così tanto le storie di Karl Barks, tanto da decidere di fare una intera saga, fondamentalmente ha dedicato la sua vita a scrivere storie con i paperi ispirate alle storie di Don Rosa, alle storie di Karl Barks. Ma è arrivato a un certo punto della sua vita dove ha voluto tirare un po' le fila, con questa, che è la saga di Paperon de Paperoni. Quello che vediamo qui non sono Paperon de Paperoni e un bambino random, sono il babbo di Paperone e Paperone da bambino. Una saga che comincia proprio dalle origini, dall'inizio, da chi era Paperone quando viveva a Glasgow, in Scozia, e di come, dopo aver acquisito la numero uno e aver fatto proprio un insegnamento decisamente profondo, abbia cominciato a viaggiare in giro per il mondo per diventare il papero che conosciamo oggi, il papero più ricco del mondo. Il papero che si tuffa, vi faccio vedere, non è spoiler, perché nella prima pagina si tuffa come un pesce baleno nel suo denaro. Questo papero qui. So che hanno, per dire, una cosa che avevo letto è che i dollari sono d'argento, quindi hanno rivisitato anche questa cosa qui, quindi immaginatevi un deposito interamente d'argento, che è più fedele all'originale, ma molto meno al nostro gusto. Però questa qui è una, tra virgolette, sciocchezza. Gli editoriali di Paper Dinastia sono molto molto curati. Per ogni albo viene detto, capitolo per capitolo, per ogni capitolo viene detto quali sono le storie barksiane che Don Rosa ha usato come ispirazione per quel determinato capitolo. Il che è una roba veramente fuori di testa, ti mostra veramente tutto l'amore che Don Rosa aveva per quello che per lui era un maestro. E, da quello che ho capito, questa cosa qui manca nella nuova edizione di Tesoro International. Per quanto ci sia un breve editoriale introduttivo, capitolo per capitolo. La storia è composta da 12 capitoli che vedono Zio Paperone dall'ultimo del clan dei paperoni a diventare il papero più ricco del mondo. E questo l'ho già detto. Oltre a questo sono presenti una serie di sei capitoli che Don Rosa inserisce all'interno di questa continuity, ma sono capitoli aggiuntivi che saranno inseriti nel volume 2 di Tesoro International. E non consiglio di leggerli dove sono collocati cronologicamente, in quanto vanno veramente a spezzare il ritmo di una narrazione che è quella della saga che, credetemi, la saga va letta 12 capitoli e poi il resto. Perché quei 12 capitoli hanno un climax che viene brutalmente interrotto dalle storie intermedie. Quindi questo volume qui, che le presenta intervallate, è stata veramente una delle cose più orribili che potessero fare ai tempi. Un'altra cosa che mi preme dire è che Don Rosa tiene veramente tanto a inserire temi che sono un pochettino controversi, temi che non verranno mai trattati, o non vengono trattati usualmente dai temi Disney. In particolare il tema della vita e della morte, il tema dell'innamoramento, che Don Rosa riesce a trattare con molto, molto tatto e quindi riuscire a essere comunque disneyano a suo modo. Soprattutto il tema della morte, che è presente in più momenti nella storia della vita di Zeppo Perone e che in un qualche modo l'hanno formato, l'hanno reso forte. Vi do quello come spoiler fondamentalmente, non vi dico chi, ma vi dico che c'è questa cosa. E nonostante tutto riesce ad essere una storia disneyana, quindi qualcosa di abbastanza controverso per i tempi, ma molto, molto interessante, molto ricco, che veramente vi farà innamorare e del personaggio e della sua vita. Io sono veramente entusiasta di questa storia qui. Oltretutto è un albo piuttosto fedele al periodo storico. Cioè, Zeppo Perone non è contestualizzato come un papero che ha vissuto, ha fatto quelle imprese lì. È un papero che ha vissuto quelle imprese lì, sul nostro pianeta, sulla Terra, e ha vissuto quelle determinate esperienze, mentre nel resto del mondo succedeva altro. Ed è molto, molto interessante vedere come Don Rosa abbia reinterpretato il tutto e abbia messo in maniera organica il tutto. Alcune volte andando anche contro a quello che erano gli spunti del maestro di Carbark, che ovviamente nelle prime storie non aveva certe intenzioni, quindi ha creato quelle che per Don Rosa sono delle incongruenze a livello temporale, quindi gli fa vedere dei personaggi molto prima rispetto a quanto Carbark si aveva detto. Però sono tutto sommato minuti. Reputo questa storia essere un'altra cosa, un'altra nota tecnica. Le vignette, come potete vedere, sono sempre otto e qui non si vede più di tanto, ma ci sono veramente vignette che sono veramente dense. Veramente dense di particolari, di sotto-gag che vanno a stemperare magari quello che si vede in primo piano. Quindi Don Rosa è anche molto attente ai particolari, quindi in un formato grande amerete vedere tutti questi particolari. Non mi ricordo con cosa volevo concludere, ma ecco con cosa volevo concludere. Reputo questa storia essere veramente uno dei punti più alti della letteratura fumetti. Disney e non. Prendiamo Watchmen, capolavoro, non dico di no, ma la saga di Don Rosa forse non sarà a quei livelli, ma è sicuramente ad altissimi livelli. Ve la straconsiglio, veramente la straconsiglio a chiunque, anche a chi non è un amante dei fumetti, leggete la saga di Don Rosa, la saga di Paperon dei Paperoni, e poi dopo evitate, se non vi piace evitate di leggere altri fumetti Disney, evitate di leggere altri fumetti, perché probabilmente non vi piaceranno. Ma, veramente, acquistatela e ve la straconsiglio. Io, vedete, l'albo è parecchio rovinato, l'albo è parecchio rovinato perché dal 2000, quando l'ho letta, da quando l'ho comprata, l'avrò letta almeno 20 volte, la leggo almeno una volta all'anno. Quindi, per dirvi, mi è piaciuto, e mi piace sempre. Niente, detto questo, vi lascio alla prossima video-opinione del canale.